Sì, nel triennio stanziano 270 milioni di euro, quindi 90 milioni rispettivamente per ciascun anno nel triennio 2024-2026. Questo significa che per la vitivinicultura siciliana e per l'agricoltura indiana in Sicilia ci saranno pochissime risorse. Solo 7 milioni erano stati stanziati per la Peronospora e per tutto il paese, quindi anche lì poche centinaia di migliaia di euro per la Sicilia. Diciamo che il governo nazionale e quello regionale non hanno consapevolezza di quello che significa agricoltura nel nostro territorio, di quello che significa l'agricoltura nel paese, di quello che significa in termini di giornate lavorative, di investimenti, di capacità di tutelare il paesaggio e il territorio della nostra agricoltura. Dunque stanziano pochissime risorse per un settore che merita invece il rispetto e che può rappresentare un traino nell'economia siciliana e non solo, a fronte invece del finanziamento di misure meramente propagandistiche che non raggiungono alcun risultato di effettivo sviluppo. La Sicilia viene ancora scippata sostanzialmente di quello che le servirebbe per ripartire. È avvenuto con il miliardo e duecentomila euro per finanziare il ponte sullo stretto, che dovrebbe finanziare il governo nazionale, invece lo pagheranno i siciliani. È avvenuto con le misure sulla sanità perché le risorse del PNRR che dovevano finanziare case di comunità, ospedali di comunità sono in molti casi sparite e serviranno per finanziare altre cose su scelta del governo. Dunque è avvenuto sulle ZES, si accentra tutto il governo, sparisce il credito d'imposta, spariscono le risorse per il Sud e dunque viene privato per esempio la provincia di Trapani di investimenti importanti, viene alzata la soglia. Dunque c'è un disegno che è quello sostanzialmente di penalizzare il Sud. Di recente è stato approvato il decreto Sud, potremmo dire decreto contro Sud, chiamarlo. E l'agricoltura purtroppo è uno dei settori più colpiti e la vitivinicoltura in particolare sta subendo dei danni fortissimi. A me pare che in Sicilia ci sia un disegno, che è quello di smantellare il sistema virtuoso agricoltori e cantine sociali a favore di poche cantine private. Noi questo non lo consentiremo, noi alzeremo su questo i toni della battaglia che sarà sempre civile, si svolgerà nelle euro parlamentari, ma mi auguro che si svolga anche fuori con grandi iniziative e grandi manifestazioni che possano veramente portare il governo a riflettere. E il prossimo passo che faremo è quello di presentare un emendamento in finanziaria col quale chiederemo di stanziare almeno 50 milioni di euro per la vitivinicoltura siciliana. Perché non è possibile che dal governo regionale non arrivi alcun segnale a fronte del silenzio del governo nazionale. E poi bisognerà insistere col governo nazionale affinché vengano stanziate risorse ad hoc.